La socialdemocrazia tedesca, che ha governato il paese negli ultimi quattro anni, esce dal voto politico con la più bassa affluenza anche con il minimo storico. I vincitori, cristiano-sociali e della cancelliera Angela Merkel, perdono voti ma vincono. Il nuovo Parlamento tedesco avrà una chiara maggioranza di centrodestra grazie all'ascesa dei liberali del quarantenne Guido Westerwelle. La sinistra riformista, a vent'anni dalla caduta del muro, si ritrova smarrita. Soffre la concorrenza della Linke di Oscar Lafontaine e De Verdi, nonostante un modello sociale che aveva portato la Germania ad essere il motore d'Europa e, in epoca più recente, a dire di poter fare meglio da sola per uscire dalla recessione. Certo, l'economia sarà la priorità del nuovo Bundestag, che la Merkel vuole pronto per i primi di novembre, così come resta una priorità la riorganizzazione di Opel. I liberali spingono anche per rivedere le scelte sul nucleare, proprio quando la Germania aveva annunciato che entro il 2020 avrebbe fatto a meno delle centrali. La sinistra europea, tuttavia, non è mai andata così male. È uscita pesantemente ridimensionata dal voto per il Parlamento di Bruxelles e, al netto della politica dell'alternanza, i socialisti sono in difficoltà in quasi tutta Europa. In Francia, dove sono stati ripetutamente sconfitti da Sarkozy, si presentano con forti divisioni interne alle prossime elezioni regionali. Lo stesso vale per i laboristi inglesi, anche loro è minimi storici, con una leadership debole e pesanti contrasti interni. La Germania va a destra e la terza via è morta, così commenta l'aconico Paul Rasmussen, il presidente del PSE.